Regione Toscana, il Consiglio regionale. Come abbiamo visto nel nostro sommario, il primo progetto che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione è la proposta di legge che è poi stata approvata per quanto riguarda gli agriturismi e gli oleoturismi della nostra bellissima Toscana. Un progetto di legge che andrà a supportare e sostenere tutti i nostri agricoltori nella loro fondamentale attività economica. Sicuramente novità importanti perché è stata approvata una legge, la 79, che in qualche modo favorisce l'attività agrituristica e l'oleoturismo. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento in particolare all'articolo 7 che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente se verrà mantenuta potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Vediamo come andrà. Si tratta di interventi normativi molto attesi dagli operatori perché ci sono alcune limitazioni dal punto di vista delle norme che non rendono facilissima l'attività per gli agriturismo laddove si tratta soprattutto di ristrutturazioni di ambienti esistenti e anche di ambienti che ricadono magari con le aziende molto grandi e molto estese su territori limitrofi in comuni diversi. Quindi si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'olioturismo, l'enoturismo cioè tutte quelle attività collaterali e le produzioni agricole più pregiate della regione toscana che garantiscono flussi turistici ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Olioturismo e Agriturismo abbiamo approvato la PDL proposta dalla Giunta con alcune modifiche che sono state apportate tramite emendamenti nella quarta commissione. Abbiamo di fatto dato la possibilità alle strutture di spostare dei volumi però all'interno dello stesso comune e in aree contigue alla propria attività. Crediamo che questo sia un buon compromesso, motivo per il quale non abbiamo approvato, quindi è stata respinta la proposta di legge presentata dalla Lega che invece prevedeva un aumento volumetrico del 30% o nello stesso comune addirittura in altri comuni. Per noi questo diventa assolutamente inaccettabile, si rischia una giungla di edifici all'interno di un passaggio straordinario e invece con la proposta d'ordine che è stata passata diamo l'opportunità a queste strutture che tanto hanno avuto successo durante il periodo della pandemia di dare una risposta qualificata aumentando nella possibilità sia ricettive che di possibilità di espansione dei propri edifici. Questo per quanto riguarda la legge. In Consiglio regionale, diritto allo studio. Via libera il bilancio previsionale dell'azienda regionale. L'Aula esprime a maggioranza il parere favorevole accompagnato da un ordine del giorno recuperare le risorse per il 2023-2024. Nell'atto approvato a maggioranza è prevista la raccomandazione per attivare misure efficaci per un significativo efficientamento dei servizi mensa e alloggio per i quali si rileva negli ultimi anni un crescente costo medio unitario e permettere a punto modalità operative che garantiscano l'erogazione di un contributo affitto il più congruo possibile agli studenti vincitori di alloggio. Ieri abbiamo dato parere positivo al bilancio previsionale 2022-2024 dell'azienda regionale per il diritto allo studio. È un'azienda delicata che ha svolto un compito importante, fortemente messo alla prova dalla pandemia, che ha aumentato i costi per la pulizia, per la cura e l'igienizzazione delle residenze universitarie e allo stesso tempo ha creato numerose difficoltà. Al momento ci troviamo in una condizione per la quale la Giunta ha effettuato minori stanziamenti all'azienda per il diritto allo studio, dato che ha preoccupato gli studenti generando un po' di fibrillazione. Con gli atti che abbiamo approvato abbiamo avuto garanzie dalla Giunta che le somme al momento non attribuite a DSU verranno reintegrate nel corso del 2023-2024, sul pluriennale, e abbiamo anche con l'ordine del giorno collegato al parere chiesto di poter monitorare in Quinta Commissione che davvero questo avvenga e quali saranno i tempi di questo reintegro delle somme necessarie a coprire l'intero importo delle borse di studio. Questa Regione ha un elemento di vanto nella sua prestazione perché copre da sempre tutte le richieste di borse di studio per gli studenti del diritto allo studio e vorremmo mantenere questo livello di prestazione. Quindi monitoreremo e vorrei rassicurare gli studenti perché il Consiglio regionale e la Commissione Quinta saranno attenti a questa loro esigenza. È emerso anche un altro dato significativo, cioè il calo di richieste di borse di studio che abbiamo paura vada di pari passo con il calo di iscrizioni all'università. Qualora fosse così abbiamo chiesto alla Giunta di monitorare questo elemento e di eventualmente insieme all'azienda per il diritto allo studio farsi promotrice di progetti che sostengano la richiesta di iscrizione all'università perché sappiamo che i giovani laureati non solo trovano più lavoro, hanno più chance di impiegarsi ma anche ottengono impieghi meglio remunerati e condizioni di lavoro migliore. Un ultimo elemento di raccomandazione è riguardato la ripresa dei lavori di investimento e della programmazione dei lavori per ottenere le certificazioni di prevenzione incendi. Questo non vuol dire che le residenze non siano sicure, altrimenti non potrebbero aprire ed accogliere studenti, ma vuol dire mantenersi al pari con gli investimenti che consentono di risolvere alla radice i temi che richiedono la certificazione. Quindi abbiamo dato indicazione che al più presto si riprenda la programmazione di questi interventi. Noi abbiamo votato contro perché abbiamo riscontrato diverse criticità. La più importante è il fatto che la giunta regionale, mi sono portata al foglio per non sbagliarmi, ha ridotto i contributi di 700 mila euro per il 2022, di 7 milioni e 4 per il 2023 e di 12 milioni e 575 mila euro per il 2024, che sono tanti soldi che vanno a scapito delle borse di studio e anche dei ricavi dell'azienda. Ora, si è impegnata a ricercare questi soldi, però ancora, ora in questo momento, non ci sono. Altre criticità sono la mancanza della certificazione antincendio in diverse residenze degli studenti, che non sono state messe a norma e che si spera che verranno fatte. Ci hanno promesso entro il 2024, ma i tempi poi chissà se saranno rispettati. Infine, che c'è da dire? C'è da dire che continuano a crescere i costi unitari per i vari servizi. E infine voglio ricordare che la soddisfazione degli studenti, in un sondaggio che hanno fatto, risulta il 6,36%, quindi appena sopra la sufficienza, perché è su 10, il 6,36% su 10 e mi sembra un po' bassa. E per ultimo voglio ricordare che il Parlamento degli studenti continua a dire che ci sono criticità tra le tre università, in particolare per quanto riguarda i trasporti e la sanità, cioè riscontrano differenze in questi due settori. Le riprese di Marcello Sane ci riportano in Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze, dove a margine dell'ultima seduta del Consiglio che è in corso di svolgimento in questo momento, si è svolta la presentazione della Maggiolata 2022 di Lucignano, che dopo due terribili anni di pandemia torna in presenza, esattamente il 22, 24, 29 maggio e primo giugno. Andiamo a sentire i protagonisti di questa bellissima edizione piena di fiori e di colori. Grande attesa perché la ripartenza della nostra Maggiolata dopo due anni di stop, il primo evento comunque che riparte di quelli davvero grandi, quindi l'attesa è tanta e siamo emozionati, perché comunque già tornare a vedere le bandiere, a sentire l'area di festa è veramente bello. Quindi il 22 maggio, il 24 in notturna, il 29 maggio durante l'intera giornata da domenica e la chiusura, il primo giugno, torneranno a sfilare i carri, i nostri bellissimi carri fioriti per le vie del Borgo, uno dei borghi più belli d'Italia e questo allieterà la gioia di tanti. E vorremmo mandare anche un messaggio di speranza, perché comunque in questo momento abbiamo bisogno anche di bei messaggi, quindi la tradizione e il futuro, questo è quello che abbiamo voluto inserire, la contemporaneità e la tradizione per poter tramandare anche all'esterno un messaggio davvero grande di pace, responsabilità e serenità. Finalmente, finalmente torniamo a vedere i nostri sorrisi, finalmente è possibile vivere queste iniziative, anche senza mascherina nel rispetto alle regole che ci siamo dati, ma con la voglia di tornare a vivere. La Maggiolata Lucignanese è uno degli eventi, l'evento della Valdichiana in uno dei borghi più belli della nostra Toscana. Si incontra la voglia di far festa, il saper utilizzare i fiori, l'artigianalità e la manualità di tante donne, di tanti uomini che provano a far sorridere gli altri. È un evento bello, così bello che consiglio in questi giorni ai cittadini della Toscana di andare, di conoscere i nostri borghi, di andare a conoscere le nostre tradizioni. E tutto questo avviene tra tradizione e contemporaneità, la contemporaneità di chi vuole vivere con speranza e ottimismo verso il futuro. Sicuramente questa è una festa che ormai, diciamo così, tra pochi anni festeggiamo il centennario, quindi crediamo di poter dare un contributo notevole con questa festa a tutta la nostra zona della Valdichiana dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico e anche rievocativo del passato. Quindi noi ce la mettiamo tutta, le Contrade, l'Associazione Maggiolata e ora a questo punto con un contributo notevole anche dal punto di vista delle istituzioni. Finalmente si torna in presenza quel borgo già bello di suo, splenderà di tantissimi fiori, tante persone che ci hanno messo davvero la passione, la voglia, l'amore per questo paese in una manifestazione che va vista, va vista perché raccontarla la sminuisce. Questi carri che io non so come fanno a girare in queste stradine piccolissime di Lucignano e la capacità di questi artisti, di questi volontari di mettere insieme un'esplosione di colori con i fiori che anche quest'anno la faranno da padrone. Quindi l'invito è venire a tutti i Lucignano, un grazie all'amministrazione comunale, un grazie ai tanti volontari che stanno facendo questi carri con la voglia di fare esplodere di colore un borgo che è già bello di suo, ma che diventa inquisitato. La Maggiolata è una manifestazione storica, ma è una magia che si rinnova ogni anno, che fa rifiorire uno dei borghi più belli d'Italia, che attrae tantissimi visitatori e tantissimi appassionati da questa arte che i volontari mettono in atto con tanto impegno tutto l'anno per poter arrivare a questo appuntamento e poter proporre questi carri che con i fiori danno delle immagini veramente suggestive. Quest'anno è una manifestazione speciale perché è quella della ripartenza dopo due anni di stop e quindi pensiamo davvero che possiamo quest'anno più di sempre pensare a rifiorire, a rinascere, a ridare un'opportunità di divertimento, di musica e di buona gastronomia. Quindi l'invito è veramente a vedere questa manifestazione, questa Maggiolata, che è veramente una perla e che quando uno l'ha vista ne rimane contagiato e tornerà anche nei prossimi anni. Quindi veramente grazie ai volontari e andate a vedere la Maggiolata. Bene, anche per questa occasione è tutto. Noi con Marcello Sani, Simone Scalaberni e la nostra regia vi salutiamo, vi ringraziamo per la cortesi e attenzione che è da sempre dedicati a questa rubrica e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con le attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie a tutti.